Valdagno compro oro abusivo, nei guai la titolare della ditta, sequestrati dalla guardia di finanza di Arzignano preziosi per 45 mila euro. I finanzieri hanno verificato che l'attività operava in totale assenza dell'iscrizione al previsto registro ed anzi a marzo di quest'anno risultava essere stata cancellata. La titolare continuava ad operare abusivamente nel settore della compravendita e permuta di oggetti usati in oro o altri metalli preziosi. L'ispezione del negozio dell'abitazione della titolare, dove parte dell'oro era custodito, ha portato al sequestro di 2 mila euro in contanti e preziosi in oro e d'argento per un valore commerciale stimato in 45 mila euro. Posto sotto sequestro anche il locale adibito all'attività e denunciata la titolare alla procura di Vicenza per esercizio abusivo dell'attività.